Diamo il benvenuto al consigliere comunale e provinciale di Rieti, Città Futura, Alessio Angelucci. Eccoci qua di nuovo. Salve, partiamo dal tema del momento direi, il coronavirus, la situazione nel Reatino? Mi pare, leggendo anche le notizie della riunione che c'è stata ieri in prefettura, che la situazione nella nostra provincia per ora sia assolutamente sotto controllo. Mi preme ringraziare, visto che ho l'opportunità presso questo importante spazio di contatto con i cittadini, le nostre ASL, la dottoressa D'Innocenzo e tutto il nostro ospedale, la nostra rete provinciale sanitaria, perché il lavoro che stanno facendo in queste ore e il lavoro più in generale fatto nelle ultime settimane è veramente un lavoro importante, tutto rivolto alla tutela di noi cittadini, di noi utenti. Dico questo non solo perché nella teoria c'è una grande organizzazione, ma abbiamo già potuto vederlo nella pratica, quando proprio Rieti Life lanciò un po' la notizia che c'erano due casi di due reatini tornati da Hong Kong che avevano qualche sintomo che andava approfondito. Le ASL della nostra provincia immediatamente si sono attivate, hanno fatto sì che il protocollo venisse rispettato interamente, quindi sono stati mandati allo Spallanzani, di lì controlli, test negativo e quindi rientrati in città. Senza clamore, con grande professionalità, ecco da quella dinamica, da quella situazione avevo già capito che il nostro ospedale era sicuramente in grado di poter far fronte a questo problema ormai davvero globale. Voglio ricordare, così come appunto scritto nel sito delle ASL di Rieti, che il numero attivo appunto il 1500 e che i riferimenti per la provincia di Rieti sono il San Filippo Neri per gli adulti e i bambi Gesù per quanto riguarda appunto i più piccoli. Quindi credo che il nostro ospedale dal volta criticato, può succedere sicuramente che qualche critica se la sia anche meritata, ma in una visione più globale e più ampia ancora una volta credo per noi reatini sia veramente un importante riferimento. Il coronavirus è sicuramente un fenomeno che sta mettendo in apprezzione tutti e questo è quantomeno fisiologico. Ritengo che non ci sia motivo di fare sciagallaggio politico perché i voti si devono cercare su argomenti veri e non diffondendo il panico e in chiusura vorrei anche specificare che il coronavirus preoccupa più per la gestione sanitaria che per l'impatto clinico. Abbiamo visto che purtroppo le persone decedute erano già gravemente sofferenti di altre patologie e quindi cerchiamo di mantenere la calma e su riedi. Stiamo tranquilli perché le nostre autorità sanno quello che fanno. Passiamo a un altro argomento. L'edilizia scolastica, a che punto siamo? Beh, siamo fermi, siamo a un punto morto. Questo me ne dispiace molto perché l'edilizia scolastica è qualcosa che io, anche nel mio mandato amministrativo, sento molto dentro di me per motivi ovviamente facilmente immaginabili, ma anche perché su questa vicenda dell'edilizia scolastica ci siamo anche giocati la partita delle elezioni del 2017 che si sono svolte sull'onda emotiva, sul clima del sisma che era ancora in quei giorni attivo. Le scuole hanno rappresentato sicuramente un elemento di propaganda molto forte da parte di settori del centrodestra e poi però una volta che il centrodestra si è trovato a governare la città di fatto non ha prodotto nessun risultato. Quello che mi preoccupa è che si sta navigando a vista. Si cerca il riparo quotidiano, si cerca la toppa quotidiana, si cerca la soluzione al momento e non si ha la capacità di sviluppare un'idea di lungo corso. È evidente che sulla scuola o si ragiona il lungo corso o è meglio non ragionare per niente perché non sfugge a nessuno che quando un bimbo lo metti in prima alimentare ha quantomeno 5 anni dinanzi a sé, quando un bimbo lo metti in prima media ha perlomeno 3 anni davanti a sé e quando un ragazzo lo metti in primo superiore ha almeno 5 anni dinanzi a sé. Quindi siccome la scuola occupa un tempo lungo nella vita dei nostri ragazzi non è più possibile dire domani trovo quella stanza, domani trovo quell'aula, domani risolvo il problema di quel laboratorio perché sono tutte toppe che però non riescono a risolvere il problema nella sua interezza. Ci fecero votare in Consiglio Comunale una scuola di carta, la scuola di Campolognano, Cicchetti e Emili sono venuti in Consiglio Comunale a raccontarci che una fantomatica fondazione voleva regalarci qualche milione di euro per costruire una scuola, la scuola non è stata fatta, la scuola non c'è, la scuola non è stata costruita e i nostri ragazzi ancora vengono sbattuti da una struttura all'altra. No, non è questo, non è questo che andava fatto e io sono convinto che se riusciremo a cambiare il governo di questa città forse con meno ambizioni di tipo quasi lunatico e invece ambizioni più terrene, più fattibili, riusciremo sicuramente a dare delle risposte. Angelucci, nel 2022 si vota per le elezioni comunali, cosa si muove all'interno del centro-sinistra? Ma anzitutto credo sia necessario prendere coscienza che manca veramente poco, che la scadenza appunto 2022 è una scadenza molto prossima, a settembre di quest'anno saremo a un anno e mezzo dal rinnovo del Consiglio Comunale, quindi occorre cominciare sicuramente a ragionare sull'idea di città. Ecco, questo nel centro-sinistra sicuramente è un argomento sul tavolo, perché ancora una volta io credo sia indispensabile ripetere che prima di individuare la persona, ecco, occorra veramente ragionare su come vogliamo far diventare sta città, ma non nei prossimi cinque anni, nei prossimi cinquant'anni, cioè quello che dicevo prima per le scuole, avere un'idea di lungo corso, essere in grado di sintetizzare quindi una proposta e poi insomma sicuramente ci saranno uomini o donne in grado di incarnare quell'idea, quel programma. Il centro-sinistra sicuramente non sarà e non potrà essere il centro-sinistra storico conosciuto almeno negli ultimi vent'anni, ma così come non sarà il centro-destra degli ultimi vent'anni, cioè questa enorme necessità di aprirsi, ma di aprirsi veramente, di essere un po' una politica in uscita, una politica che sta non solo fra la gente perché va a parlare con la gente, ma che prende la gente e la porta all'interno delle istituzioni per fare in modo che ci sia una vera boccata di aria nuova, perché Rieti poi in fondo è una città che si nutre di se stessa, ha bisogno che ci sia una classe politica non autoreferenziale che sta lì a dire quanto siamo bravi, quanto siamo bravi, ma una classe politica fatta di persone, di donne, di uomini che hanno vissuto, che conoscono sulla propria pelle i disagi di abitare in una terra sì bellissima come questa, ma molto complicata, è che inseriti all'interno di una classe politica, di una nuova classe dirigenziale, possano dare veramente un contributo enorme. Quindi si sta parlando, si comincia a ragionare su quale Rieti vogliamo e sono convinto, lo dico al direttore di Rieti Life, che sicuramente da qui a settembre ci sarà molto da scrivere, ci sarà molto da dire, perché le scelte saranno sicuramente belle, impegnative e anche forse per alcuni aspetti un po' sorprendenti. Bene, grazie Angelucci e appuntamento al prossimo Spazio Politico. Grazie. Grazie.